che segna un grandissimo gol con il ammancino, la doppietta di Simone Guerra che al minuto numero 12 della ripresa fa 2 a 0 per al P2, Triestina 0 scoperta in questa occasione la retroguardia della Triestina che paga Tazio ottimo, il pallone arretrato di Corradi ma altrettanto bella la conclusione di Guerra che segna il suo gol numero 11 in stagione, stagione che diventa molto importante dal punto di vista realizzativo, fa festa là a Feralpi, un po' di scoramento invece tra le fine